Per tutti gli automobilisti c'è da adeguarsi alla legge sulle gomme? Sì, praticamente dal 15 di novembre su tutto il territorio nazionale in generale parte praticamente la normativa che prevede che vengano installati pneumatici termici o comunque avere in macchina un allestimento idoneo per la trazione su neve in pratica. Insomma, o avere e portarsi sempre dietro le catene oppure mettere le scarpe da neve? Sì, pneumatici termici sull'autovettura in pratica montati. Ecco, questo cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente vi sono pneumatici con marcatura M più S che quindi hanno caratteristiche di trazione su neve. Ora la normativa parlerebbe di due pneumatici ma l'ideale sarebbe consigliabile i quattro pneumatici come consiglio di sicurezza. Poi esistono anche i pneumatici quattro stagioni che quelli si possono ottenere sempre estate e inverno. Sì, perché hanno delle caratteristiche che permettono praticamente di essere utilizzate anche nel periodo estivo perché hanno delle caratteristiche all'interno del pneumatico che fa sì che non si sciupino anche nel periodo estivo. Comunque sono pneumatici che hanno tutte le caratteristiche di legge per essere tenute tutto l'anno. E quindi i gommisti di Confartigianato ricordano queste scadenze e consigliano di premunirsi per tempo onde evitare code o problemi di approvvigionamento delle gomme? Sì, direi di sì perché non è che si può fare tutto in un giorno. È una lavorazione che meno male ha la sua tempistica e che quindi sarebbe ideale prendere un appuntamento e quindi cercare di organizzare la cosa per non avere un affollamento tutto l'ultimo momento. Vuoi ricordare quando entra in vigore questa norma? La normativa parte dal 15 novembre fino alla scadenza del 15 di marzo.